Musica Allora abbiamo appena finito di percorrere la pista ciclabile di Viale Diaz e questi sono i voti. Accesso 7 Protezione 10 Sede stradale come abbiamo detto è in serrato, quindi gli diamo un voto 8 perché ci sono delle problematiche legate alla formazione di pozzangre d'acqua e di fango quando piove. Attraversamento stradale 8 Visibilità 10 Segnalettica non pervenuta perché è in assenza di segnalettica. Occupazione 10 E ricordatevi, freni sempre a posto e la sera luci sempre accese Caschetto in testa e prudenza sempre!